Credo che la mia risposta forse ti sorprenderà e magari sorprenderà anche chi vedrà questo video. In realtà la mia risposta è che dipende, nel senso che dipende intanto dal ginecologo che uno ha, quindi dalle sue competenze e dal tipo di relazione che si ha con lui, da una parte, dall'altra anche credo nel fatto che avere uno storico e avere un rapporto continuativo sia importante, credo anche che a fronte di nuove necessità o nuove esigenze rispetto alla fase di vita di una donna, se fosse necessario avere un altro interlocutore perché ha altre competenze o altri approcci a quella specifica fase, allora va bene anche trovarne un altro e cambiare.